La speranza e il coraggio della verità è felice colui che ha il coraggio. Di dire la verità, ma attenzione, senza sentirsi superiore a nessuno. E questo è un errore piuttosto frequente. Che anche delle volte, quando diciamo delle cose vere, delle cose che sono oneste, noi lo diciamo con l'atteggiamento di colui che si sente superiore all'altro. Anche quando viviamo il coraggio del perdono, per esempio, perché per perdonare ci vuole il coraggio, è la verità del perdono che libera tutti. Bene, molte volte quel coraggio non è coraggio. Quella forza non è forza, ma è orgoglio e prepotenza. Quando io mi sento superiore a te e perciò ti perdono, perché io sono superiore a te, oppure perché sono cristiano e quindi io ho la verità in tasca. No, si perdona perché io sono peggio di te. Si perdona perché qualcuno mi perdona ogni istante, ogni momento. E si perdona perché sempre questo qualcuno, ma anche tante persone, hanno dato possibilità, tante possibilità. Mi hanno dato sempre una possibilità. Ecco che cosa vuol dire testimoniare, vivere una vita felice, fatta di speranza, di coraggio della verità, ma senza sentirsi superiore a nessuno. Ma il coraggio della verità e la speranza non è un fatto intimistico, peggio, solipsistico, cioè di solitudine non feconda, ma quella solitudine che mi porta a stare lontano da tutti e da tutto perché io con te non voglio avere nulla a che fare. Questa speranza, questo coraggio della verità si vive sempre nella compagnia degli uomini. E sentite che cosa dice sempre Papa Francesco in questa famosa Catechesi sulla Speranza che ci sta accompagnando in quest'altra tappa del nostro cammino. Ricordati questo. Se tu fossi rimasto anche l'ultimo a credere nella verità, non rifuggire per questo dalla compagnia degli uomini. Anche se tu vivessi nel silenzio di un eremo, porta nel cuore le sofferenze di ogni creatura. Sei cristiano e nella preghiera tutto riconsegna a Dio. Stupenda questa parte della Catechesi di Papa Francesco sulla speranza. Non dobbiamo mai rifuggire dallo stare, dal vivere in mezzo agli uomini anche se siamo gli ultimi a credere nella verità. Anche se siamo in minoranza. Anzi, molte volte dobbiamo essere in minoranza. Il cristiano in questo mondo deve essere in minoranza. Minoranza evangelica, che è quella minoranza che dimostra l'alterità del Vangelo. Io sono con voi, dice il Signore. E quindi dobbiamo avere questa certezza. Ma dall'altro lato dobbiamo sapere che stando nel mondo con il Signore noi non possiamo mai appartenere a questo mondo. Nel senso che viviamo nel mondo. Dobbiamo immergerci, mischiarci nel mondo ma non farci condizionare dalle logiche dalle logiche disumane, non evangeliche dalle logiche di potere, dalle logiche di schiavitù e dalle logiche idolatriche che il mondo spesso e piuttosto in maniera frequente ci propina. Vi aspetto domani. Paripio TV, Dritto al Cuore. Ciao a tutti! Grazie a tutti!